La vergogna che ancora adesso e siamo a ottobre ci siano migliaia di bimbe e bimbe e ragazze e ragazzi disabili che non sono a scuola perché mancano gli insegnanti di sostegno. Un abbraccio a una mamma che ha denunciato e ci vuole evidentemente coraggio il fatto di aver ritirato il proprio figlio da scuola a 16 anni perché un ragazzo autistico, stiamo parlando di Bari, ha cambiato 17 insegnanti di sostegno nei 10 anni di scuola. Una vergogna. La mamma che fa l'insegnante ha detto lo tengo a casa perché non ci sono insegnanti di sostegno in grado di comunicare con mio figlio, però è un fallimento per la scuola italiana. È una vergogna, lo dico io a nome di quella mamma che ha avuto anche lei il coraggio di raccontare sui social, social che a volte diventano sfogatorio di frustrazioni, di esibizionisti, invece in questo caso diventano un punto di partenza. Ecco, farà le priorità del prossimo governo anche quello di ampliare il numero di insegnanti di sostegno professionalizzati per le diverse disabilità e metterli in classe fin dal primo giorno di scuola perché è una vergogna che ancora adesso, siamo a ottobre, ci siano migliaia di bimbe e bimbe e ragazze e ragazzi disabili che non sono a scuola perché mancano gli insegnanti di sostegno. Questa è una roba di cui vergognarsi.